Emma Mackey, all'anagrafe Anna Margaret Marie Touchard Mackey, è un'attrice e modella francese naturalizzata britannica, conosciuta principalmente per il ruolo di Maeve Wiley nella serie originale Netflix Sex Education Emma Touchard Mackey è nata il 4 gennaio 1996 a Le Mans, in Francia, da padre francese e madre britannica È cresciuta a Sablesur Sarte e nel 2013 ha conseguito il diploma internazionale di maturità presso l'Accademia di Nantes All'età di 18 anni si sposta nel Regno Unito per frequentare l'Università di Leeds dove ha studiato teatro, esibendosi in produzioni presso il Workshop Theater e diretto spettacoli da piccolo palco per il gruppo teatrale dell'Università Mackey ha fatto da modella per la linea estiva dell'abbigliamento inglese Aida Shordich 2017 Nel 2016, Mackey ha interpretato Michelle nel film Horror Badger Lane Nel 2018, ha recitato in Summit Fever, un film drammatico su due giovani alpinisti inglesi che tentano di scalare il cervino, Legger e il Monte Bianco Dal 2019, l'attrice affianca Assa Butterfield e Gillian Anderson nella nota serie Netflix Sex Education, suo lavoro più importante in carriera Il suo personaggio in Sex Education, Maeve Wiley, è un personaggio femminile complesso e sfaccettato, popolare ma isolata, in grandi difficoltà economiche, manipolatrice, appassionata di letteratura, con uno spiccato senso dell'umorismo eccellatamente sensibile Grazie per l'attenzione Iscriviti al Calane